Dopo la squillante vittoria in trasferta e una settimana di duro allenamento, spesso sotto la pioggia, la Triestina domani pomeriggio tornerà a calcare l'erba del Rocco, accogliendo il Sud Tirol. Gli ospiti sono già stati incontrati dall'Unione durante gli impegni della Coppa Italia e in quell'occasione, circa a fine agosto, gli altoatesini si sono imposti per 1-0. Ora la storia sarà differente. La Rosa della Triestina è completa, maggiormente collaudata, competitiva e motivata per un cammino in campionato dignitoso e ambizioso. Sarà inoltre una nuova occasione per verificare la passione dei tifosi, chiamate a gran voce dalla società a partecipare numerosi e colorare il più possibile lo stadio. L'incontro di domani si giocherà alle 14.30, riprendendo l'orario consueto che si è conosciuto in questi ultimi anni. Per la formazione si può ipotizzare che San Nino riproporrà l'11, visto domenica scorsa in trasferta. Con arma e mensai in attacco, quest'ultimo un po' acciaccato in settimana ma recuperato per domani, Bracaletti, Meduri, Porcari e Bariti per il centrocampo e in difesa Acquaro, Elasni, Pizzule e Troiani, con la porta che sarà controllata dai guantoni di Perisan.